Giovanna Serafini, responsabile dell'hotel Torino di Lido di Iesolo. Buongiorno e bentrovata. Buongiorno a tutti. Allora, inizia l'estate 2022, dopo due anni di pandemia, due anni di chiusure forzate e comunque di limitazioni. Quest'anno sembra che ci sia un'apertura, no? E sembra soprattutto che l'estate volga essere un'estate normale rispetto al passato. Beh, ma non sono andate male nemmeno le stagioni passate. Sarebbe essere un po' scorretti o bugiardi dire che sono andate male. Quest'anno sembra esserci un ulteriore risveglio, un'ulteriore agitazione, eccitazione per la vacanza. Forse un pelino di più ancora. Però lamentarsi delle stagioni passate qui al mare, secondo me, è sbagliato. Ecco, quest'anno tanti turisti italiani, ma anche stranieri stanno arrivando, stanno tornando soprattutto. Sì, un pochino di più. Ci sono state anche un po' di cancellazioni per l'insicurezza mondiale. Però per adesso ancora la gente prenotta, soprattutto gli stranieri, sì, sono aumentati. Ecco, da dove arrivano questi stranieri? Molto dall'Austria, Germania, ma anche un po' Repubblica Ceca, Ungheria, di nuovo stanno ritornando un attimino. Secondo me hanno ancora un po' di paura perché non capiscono come volgerà la situazione. Soprattutto a livello di guerra che è proprio ai confini dell'Europa, no? Quello sì, sta un attimino tenendo fermi, ma va bene così. Va bene così. A voi non dà troppi problemi perché, diciamo, l'utente russo difficilmente veniva in questa zona? No, no, noi abbiamo perso una buonissima fetta di mercato russo, soprattutto giugno-luglio. Ma ormai quello l'abbiamo perso dal 2019-2020, no, forse 2020, dalla pandemia. Lì abbiamo abbandonato completamente il mercato russo, purtroppo. Le prenotazioni in luglio-agosto comunque ci sono, eh? Sì, 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 sta andando tutto molto bene. Perfetto. Allora, auguriamo una buona stagione, sperando di ritrovarci a fine estate con i dati positivi. Speriamo. Buona stagione a tutti. Grazie, grazie. Grazie.